musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi voglio fare un video molto molto speciale a cui tengo parecchio perché dovete sapere ragazzi che da ieri siamo diventati una famiglia più grande ragazzi come sapete io lavoro già per trust gaming sono un ambasciatore di trust da parecchi mesi oramai ma ieri ragazzi due nuove aziende hanno deciso di affidare all'oxyuderone le loro pubblicità e i loro prodotti ragazzi volevo ringraziarli ovviamente e volevo parlarvene un secondo perché meritano davvero tantissimo sicuramente le conoscerete se non le conoscete vi auguro una buonissima visione del video la prima azienda ragazzi è instant gaming sicuramente vi è noto un pochettino come nome instant gaming diciamo che instant gaming si occupa durante la sua le sue campagne promozionali di vendere nel proprio sito videogiochi quindi ragazzi a prezzi scontati tutti i videogiochi del momento ma non vende solo i videogiochi ragazzi guardate guardate ad esempio una cosa bellissima che c'è solamente per un periodo limitato di tempo ragazzi come vedete questa è una playstation card quindi una normalissima ricarica del portafoglio playstation che instant gaming vende a un prezzo incredibile 17 99 invece che 20 euro quindi se volete shoppare su fortnite e avete la playstation e ovviamente dovete utilizzare la psn card caspita passate su instant gaming perché c'è un bello sconto tra l'altro ragazzi qua in descrizione proprio il primo link è il mio link ufficiale di instant gaming troverete andando da quel link a volte dei prodotti in ulteriore sconto vi invito sempre per acquistare e per fare i vostri acquisti dei videogiochi delle playstation card di tutto quello che è inerente al mondo videoludico passare dal link in descrizione ne vale davvero la pena quindi ragazzi bellissimo vi faccio vedere un pochettino anche 17 90 ho visto che hanno anche le playstation card da 10 euro le vendono a 8 euro cioè ragazzi facendo i conti chi non shoppa su fortnite porca vacca io sono il primo che shoppa voi siete i primissimi che shoppate su fortnite se voi pensate che ogni 5 card playstation acquistate a 8 euro praticamente una è regalata su 1000 v bucks extra che non sono proprio pochi 1000 v bucks extra io un pensierino ce lo farei come vedete ragazzi ha un sacco di piattaforme per la quale lavora steam origin ps4 ovviamente i giochi indies uplay battle.net e anche ovviamente xbox ragazzi come vedete ci sono tutte le cose interessantissime anche per xbox per chi gioca all xbox e per caso vuole provare l'anteprima di battlefield ragazzi a 1 euro e 89 c'è la beta c'è l'accesso alla beta solo per 1 euro e 89 per i giocatori di xbox one per quello che vediamo su ps4 ragazzi hanno un sacco di cose interessanti in questo caso 43 40 ragazzi vi danno il la skin del bombarolo più i 500 v bucks è una figata io questa me la prendo sicuro perché è al 50 per cento in sconto quindi veramente interessantissimo instant gaming ragazzi non dimenticatevi di fare un salto sul loro sito che è un sito mondiale ragazzi mondiale ma se noi scriviamo fortnite vediamo guardate 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 viene fuori un sacco di roba di forte abbiamo il deluxe edition addirittura 44 c'è un sacco di cose 26 per cento di sconto tutti i giochi ragazzi su instant gaming sono super super scontati mi raccomando non c'è modo migliore che acquistare un gioco online se non su instant gaming e dopo aver ringraziato l'oro questa azienda che veramente io a parte che io ero l'oro utente da febbraio del 2017 quindi comunque già li conoscevo voglio anche farvi vedere ragazzi la seconda azienda che è diventata partner di xuder che si chiama a rozzi voi ragazzi dite chi è a rozzi gg per a rozzi guardate che roba guardate che roba ragazzi a rozzi fa sedie da gaming tavoli da gaming microfoni professionali simulatori racing e fa anche i visor accessori e merchandise generale loro ragazzi mi hanno detto che potevo scegliere qualsiasi sedia volessi e ragazzi volevo farvi vedere io ho preso questa la torretta orange bellissima ragazzi bellissima una nuova sedia da gaming che mi arriverà prestissimo e che andrà a sostituire la mia vecchia sedia da gaming guardate che meraviglia come sedia veramente gg ragazzi niente da dire per la torretta tutta regolabile ovviamente super professional bellissima in credo che sia in ecopelle anche questa potrebbe però anche essere in alcantara non lo so ovviamente i due cuscini quello per la testa e quello lombare sono veramente meravigliose ma ne ha tantissimi di sedia ragazzi cioè guardate c'ha la enzo green se volete rimanere su un prezzo un pochettino più basso ma tenere sempre un buon comfort 189 euro fino ad arrivare ragazzi a sedia che magari hanno anche dei prezzi un pochettino più alto come la verona xl gaming chair che costa 319 euro ma che ragazzi è veramente meravigliosa mi hanno detto che potevo prendere anche questa è proprio preferito non esagerare poi a me piace anche l'arancione quindi gg per la torretta hanno da ragazzi anche una figata arozzi vende anche i tavoli da gaming ragazzi sono questo è veramente quello che voglio troppo perché è bellissimo sicuramente lo prenderò perché mi serve un tavolo da gaming ragazzi guardate quanti ne hanno guardate che storia ragazzi gg questo costa 299 ma se vogliamo a 249 euro ragazzi c'è un tavolo da gaming regolabile ovviamente per tutte questo non è regolabile questo non credo fatemi vedere no questo non è regolabile ma questo invece dovrebbe essere invece regolabile in altezza forse anche quello di prima regolabile raga penso penso che anche quello di prima quindi gg tavolo super regolabile si può fare un po più piccolo o un po più grande è veramente veramente meraviglioso e quindi voglio ringraziare in chiusura anche a rozzi per aver creduto nel canale e per essere diventato mio sponsor ufficiale io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato questo video spero che se vogliate acquistare prodotti da gaming andrete su questi due siti instant gaming e a rozzi mi raccomando fateci un salto un bel pollicione in su noi ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti.